Sarà distribuita nelle scuole superiori la guida alla sessualità realizzata dall'Associazione Altereva. Ha vinto il bando del Ministero della Gioventù Esplosiva, lanciato nel 2010 per Torino Capitale dei Giovani. La guida è stata presentata all'Officine Corsare. Le ragazze e i ragazzi di oggi sono bombardati di immagini sessuali, ma non hanno gli strumenti di loro sessualità per conoscere i loro bisogni. E' nata per colmare questo vuoto, Sec Choices, la guida realizzata dall'Associazione Altereva, che sarà distribuita nelle scuole superiori. L'obiettivo di questa campagna è inizialmente far nascere il dibattito, ma anche affrontare temi che spesso sono o volgarizzati o ritenuti tabù. Contraccezione, erotismo, malattie sessualmente trasmissibili, ma anche la scoperta del corpo e del piacere. Tutti i temi che la guida affronta con linguaggio diretto e senza tabù. Esiste un'enorme libertà sessuale che purtroppo in Italia non è stata assolutamente accompagnata da un'informazione che potesse aiutare questi ragazzi a sviluppare la loro sessualità nel rispetto di se stessi. Sarebbe importante cominciare a fare dell'educazione sessuale in un'età precoce, molto prima, aiutando questi ragazzi a rendersi conto e a conoscersi e a conoscere il loro corpo prima poi della fruizione della sessualità.